siamo in collegamento con la professoressa elisabetta nigris pedagogista docente di progettazione didattica e valutazione presso l'università bicocca di milano ecco con la professoressa nigris parliamo della ripresa delle attività didattiche con la ripresa della scuola e cerchiamo di fare con lei un po un bilancio di qual è la situazione ecco io direi professoressa se lei è d'accordo evitiamo di parlare di green pass di misure di sicurezza e tutte queste cose che già ci tocca sentire praticamente ad un telegiornale sì e all'altro pure quindi vediamo di parlare invece di scuola del fare scuola di pedagogia ecco lei è una pedagogista quindi con lei di questo vogliamo parlare lei come la vede da pedagogista la ripresa di questo anno scolastico che oramai è il terzo anno in cui noi lavoriamo in situazione davvero molto molto difficile lei che cosa pensa che cosa dovrebbero fare gli insegnanti che quello dovrebbero fare le scuole ma intanto penso che sia bellissimo che i ragazzi tornino a scuola lo dico davvero con il cuore non ho figli a scuola non ho nemmeno nipoti ma credo che questo debba far gioire il paese perché è stato veramente triste e gravoso per i ragazzi per i bambini per i ragazzi ma anche per il paese che un'intera generazione abbia dovuto stare a casa da scuola e per la prima volta credo almeno da quando io mi occupo di scuola e anche da quando sono studente io ho sentito gli studenti chiedere di andare a scuola l'anno scorso già i bambini più piccoli erano tornati in condizioni anche di emergenza con grandi accorgimenti sulla sicurezza ci sono ragazzi che non sono mai tornati l'anno scorso in italia nemmeno l'anno scorso e quindi credo che la prima preoccupazione al di là del green pass sia come accogliere questi ragazzi come reinserirli nella scuola cioè io veramente chiedo agli insegnanti di non fare come se niente fosse intanto perché tutti gli studi ci dicono che negare i problemi sia l'unico modo per ingigantirli ma anche perché io credo nella scuola della relazione nella scuola dell'accoglienza in una scuola che ho capito che la relazione strettamente collegata con l'apprendimento non perché siamo tutti ci vogliamo tutti bene dobbiamo essere felici ma perché certo il benessere dei ragazzi e degli insegnanti è fondamentale ma soprattutto perché i ragazzi non apprendono se non hanno una buona relazione con gli insegnanti se non si sentono bene dove sono e se non sono motivati rispetto a quello che fanno e quindi io credo che questo davvero sia il primo punto in particolare negli anni di passaggio cioè in chi ha iniziato un nuovo ciclo in didattica a distanza ci sono ragazzi che hanno iniziato liceo non ci sono mai andati e quindi bisogna pur partire da capo da un certo punto di vista senta professoressa questa questione che lei ha toccato ora cioè del rapporto fra relazione relazioni sociali e apprendimento non è soltanto un come dire un modo di dire ci sono anche io credo delle evidenze scientifiche è così tutte le ricerche di tutti i campi psicologico pedagogico sociologico e di tutte le scuole di pensiero ormai confermano che la relazione l'interazione fra adulto e allievi fra allievi e fra allievi e il resto del mondo sia il terreno lumus in cui può crescere l'apprendimento soprattutto per quei ragazzi che non hanno dietro di sé delle famiglie che danno gli strumenti perché gli strumenti adatti perché questo avvenga infatti io sono molto preoccupata da questo punto di vista su tutto questo dibattito poi non posso neanche chiamarlo dibattito ma questo parlare del learning loss tra l'altro lo si dice in inglese ma è perdita d'apprendimento cioè la lacuna di apprendimento che c'è stata a causa della di del lockdown e della didattica a distanza è vero alcuni problemi c'erano anche prima ma questo li ha aggravati io credo che allarmarsi senza cercare gli strumenti per monitorare questa perdita insieme ai ragazzi cioè vanno coinvolti i ragazzi non possono essere oggetto di analisi allarme e poi richiesta di prestazione perché altrimenti quello che succede in molte scuole va bene c'è stata perdita d'apprendimento adesso dobbiamo fare più programma dovete studiare di più dovete aggiungere lavoro è vero che dovranno impegnarsi per recuperare quello che è stato perso ma possono farlo se vengono coinvolti se capiscono il senso di questo l'importanza di questo e soprattutto se gli insegnanti sono in grado di capire quali sono state le perdite perché non sono stati in termini di contenuto sono stati in termini di apprendimento quindi se io non ho ancora una volta gli strumenti per valutare gli apprendimenti quindi una valutazione per gli apprendimenti che monitora quello che è successo la perdita d'apprendimento rimane e appunto verrà recuperata da chi a casa a chi lo aiuta o chi a casa ha i soldi per pagare le lezioni private e questo è grave perché in un paese democratico ci vorrebbe la parità d'accesso e le pari opportunità rispetto al successo scolastico cosa che non c'è in italia oggi senza dimenticare professoressa che mi consenta questa battuta la scuola è anche un luogo importante per la crescita affettiva ed emotiva normalmente per gli adolescenti la scuola è il luogo in cui ci si innamora per la prima volta per esempio che non è un aspetto secondario della vita di una persona dico bene sicuramente assolutamente intanto appunto soprattutto gli adolescenti vivono un periodo della loro vita veramente difficile e tortuoso è difficile per loro è difficile per i loro genitori è difficile per gli insegnanti quindi io credo che ci sia un tema di formazione degli insegnanti per essere in grado di contenere le ansie è il disagio che i ragazzi portano con sé ma diciamo anzi è il disagio che sono accompagnate a una ricerca di sé alla costruzione della propria identità che ancora una volta è strettamente legato alla possibilità di apprendere io insisto sull'apprendimento non tanto perché non mi renda conto delle importanze che per tutti noi ha avuto la scuola dal punto di vista socio affettivo ma perché a volte sembra che si stia parlando di due cose diverse sono davvero strettamente collegate e l'adolescenza è il periodo in cui io costruisco la mia identità e se io sono immerso in un marasma anche la mia mente è immersa in un marasma quindi ha bisogno di altri strumenti per mettere in ordine e poter inserire nella propria mente un percorso di apprendimento cioè o meglio impegnare la propria mente in un percorso di apprendimento perché non ingoiamo niente noi costruiamo conoscenze. Senta professoressa lei è anche molto esperta di problemi della formazione degli insegnanti anzi lei nella sua università è proprio responsabile anche delle attività di carattere formativo rivolte agli insegnanti ecco ma secondo lei che tipo di programmi di formazione bisognerebbe fare rivolti agli insegnanti per aiutarli a affrontare questa fase. Ma intanto bisognerebbe che soprattutto per la seconda anzi per la secondaria di primo e secondo grado fosse di nuovo pensata una formazione iniziale strutturata obbligatoria uguale per tutti cosa che al momento non abbiamo che non si facessero più sanatorie di chi non ha questa formazione però è chiaro che se per anni io ho un vuoto legislativo poi devo fare le sanatorie perché se no sono discriminante rispetto a quella generazione di insegnanti. Nella formazione iniziale che c'è stata per due decine di anni prima come SIS e poi come TFA era proprio compresa una formazione di tipo in parte psicologico ma in parte proprio pedagogico di pedagogia della relazione e credo che questo sia fondamentale. Senta professoressa concludiamo con un piccolo con un piccolissimo gioco allora mettiamola in questi termini lei è un insegnante di scuola dell'infanzia che cosa fa il primo giorno di scuola cioè quando ritorna a scuola che cosa farebbe lei e poi facciamo la stessa cosa riproposta per un insegnante di scuola primaria poi di scuola secondaria cominciamo con l'infanzia. Guardi io inizio volentieri con l'infanzia perché secondo me è un po' un modello che dovrebbe essere riproposto naturalmente mutatis mutandis tenendo conto dell'età dei bambini e del rapporto fra bambini e genitori. Nelle scuole dell'infanzia con cui ho lavorato per tanti anni e che veramente hanno una competenza in termini di sia di relazionali ma anche proprio di costruzione del contesto partono prima gli insegnanti contattano le famiglie organizzano un incontro cercano di capire dalle famiglie i bambini come stanno prendendo l'inizio scrivono se hanno già avuto i bambini dei messaggi che arrivano attraverso i genitori per i bambini e poi usano i primi giorni come accoglienza il primo giorno io li farei sedere in circolo e gli chiederei come stanno cosa hanno fatto cioè sembra banale ma per gli altri ordini e gradi di scuola non c'è ecco questo stesso modello che è così naturale per l'infanzia ma anche familiarizzare di nuovo con gli spazi farmi aiutare dai bambini per mettere a posto la sezione con le cose nuove di quell'anno far trovare ai bambini un loro posto per le cose che portano da casa o per quelle che useranno in sezione e cominciare a fare dei piccoli lavori di gruppo ecco questo secondo me dovrebbe essere il modello ecco senta professoressa quindi se ben capisco il suggerimento che lei darebbe anche ad un insegnante di letteratura italiana in un liceo lei dice si potrebbe iniziare l'anno scolastico la prima giornata sedendosi tutti insieme intorno ad un tavolo in qualche modo e l'insegnante che chiede agli studenti allora raccontatemi che cosa avete letto durante l'estate o che cosa avete fatto su quali spiagge siete andate mi sembra un modo è un modo sicuramente un po' inconsueto ma lei si sentirebbe di dare questo suggerimento assolutamente sì cioè io penso che questo sarebbe un buon modo per non perdersi già il primo giorno una parte della classe ma anche chiedendo come hanno vissuto un anno di scuola a casa che cosa si aspettano da quell'anno che difficoltà pensano di avere e invece con che risorse iniziano a studiare letteratura che cos'è per loro la letteratura perché gli annoia leggere o perché quali libri invece sono interessanti per loro non è che l'insegnante fa lo psicologo fa il confidente parlare con i ragazzi ascoltarli significa anche parlare proprio della propria disciplina tanto letteratura italiana voglio dire la lettura è proprio un modo per parlare della vita diciamo in modo metaforico o comunque poetico evocativo quindi quale miglior contesto la letteratura italiana per farlo molto bene grazie professoressa la ringraziamo e cogliamo l'occasione appunto per fare gli auguri ai nostri ascoltatori ai nostri lettori e che sia un anno meno difficile di quello passato e che sia anche proficuo per tutti grazie professoressa grazie a voi arrivederci grazie a voi grazie a voi